oh che bel giardino ma guarda alcuni fiori sono stati rubati scommetto che è stata la creatura dal naso intasato sì amici miei dobbiamo arrivare alla nostra ultima porta per salvare tutti i fiori del mondo vedete la nostra prossima porta è il grande cavalluccio marino si sposti per favore perché questo cavalluccio marino non ci lascia passare ci sarà sicuramente almeno una pettinatura che stia bene a daghi